Francesco Gullo torna il Memorial Zucchini, seconda edizione, quattro squadre parteciperanno a questa manifestazione ma il valore è sempre quello di ricordare un grande del calcio pescarese che purtroppo non c'è più. Io come ogni anno vi ringrazio perché sono ospite e sono l'ultima ruota del carro. Io ringrazio il Comune, la famiglia Zucchini, il Presidente Pescara, il Direttore dello Stadio Gianluca Vianale tutte le persone che hanno lavorato da due anni a questo evento. La cosa importante è che lo rispecchia anche il biglietto che costa 3 euro, che servirà solo ed esclusivamente a pagare le spese organizzative che come lo scorso anno non sono poche. E poi mille bambini che giocheranno nel nome di Vincenzo Zucchini, grandi ospiti la sera, una serata per concludere bene la stagione. Con quel piccolo ramarico della Serie A eravamo già pronti per festeggiare due situazioni, la promozione e il secondo memore. Però comunque sarà lo stesso un bel evento e ringrazio tutti, compresi voi giornalisti, che ci appoggiate sempre in ogni momento. A proposito di Serie A mancata, ci saranno anche dei grandi nomi del calcio italiano a questo Memorial Zucchini? Beh, ripeto, Ciro Immobile, il bomber è qua a Francavilla, quindi dato disponibilità. Non so gli altri due, ci ha pensato il Presidente Sebastiani, quindi vediamo se saranno presenti anche loro. Ci sarà Totò Schillaci, Stefan Zwoc, a partire anche da Alessandro Delgrosso, Mauro Esposito, quindi insomma a livello di calcio ci siamo. E poi ci sono tanti personaggi dello spettacolo come i ragazzi del Grande Fratello, Ferdinando Giordano, Nando Colelli, Mauro Marini, il vincitore. Ci sarà il DJ Ringo, il maestro Fiozzanotti, Claudio Chiappucci, quindi tanti nomi che vengono nel nome di Vincenzo Zucchini. Grazie. Grazie. Grazie.